Terza vittoria consecutiva in campionato per il Copra e Gliore. Ieri sotto lo sguardo attento del tandem azzurro Berrutto-Giani, i biancorossi hanno superato con un secco 3-0 qualcuneo che era annunciato come una delle squadre più in forma del momento. Il confronto è stato spettacolare anche se Berrutto al termine ha sottolineato gli evidenti problemi dei piemontesi nel cambio palla. I 3-7 hanno visto in avvio Gurbici e compagni piuttosto pimpanti, condizione che non è abbastata loro per le pronte repliche del Copra. Fei, 15 punti, migliore in campo fine partita, oltre 12 di cui 6 muri e 2 ace, e Zlatanov, 11, guidati dall'impeccabile regia di De Cecco, hanno gradatamente spento le veleità dei piemontesi, sui quali pesa la rinuncia definitiva Mastrangelo, con conseguente adattamento di alcuni ruoli. L'incertezza ha comunque caratterizzato l'andamento dei primi due set, mentre a metà del terzo la squadra di Roberto Piazza ha letteralmente sciolto, consegnandosi la sconfitta. Singolare il fatto che la sesta giornata abbia riservato tutti i 3-0. I numeri dicono che alla fine sono stati 11 i muri di Piacenza contro i 7 di Cuneo e 6 gli ace del Coppellioal contro i 4 di avversari. Mercoledì, Biancorossi a Minsk, per l'andata dei quarti di finale di Challenge Cup.